Ok, ci siamo, allora in questo video oppure webinar vorrei passarvi le regole operative di questo che per adesso, perché non vogliamo mettere le mani avanti, però è corretto sottolineare che un sistema di trading potrebbe anche aver prodotto risultati per 20 anni e non dico da un giorno all'altro, però dipende anche se è intraday oppure no, però anche in poche situazioni da oggi in avanti potrebbe smettere di produrre risultati che ha prodotto magari per ripeto 10, 15, 20 anni, quindi nel trading bisogna sempre tenersi aggiornati a mio avviso, continuare sempre a studiare, non innamorarsi in maniera particolare di un sistema di trading dove tendenzialmente comunque tutti i sistemi di trading prenderanno la loro varianza negativa, però allo stesso tempo se troviamo dei sistemi che funzionano bene e i test ci dicono che funzionano bene, secondo me è bene fare girare e sfruttarli. Allora, dopo questa piccola premessa vi dico, questo indicatore qui che ho chiamato Matrix, secondo me è molto più che buono, è eccezionale, se continua così è veramente eccezionale. Siamo partiti da un pattern che è questo, il pattern che abbiamo già iniziato a tradare è quello definiamolo di colore grigio, cioè è il pattern che è dal, questo sistema è intraday, questo sistema è stato testato casualmente perché in realtà avevo iniziato a guardare i grafici per un'altra ragione, avevo l'indicatore però caricato dal 30 di gennaio, ok, dal 30 gennaio e da lì sono partito, perché ripeto avevo altre idee, poi ho visto una cosa, ho detto l'ho rivista, ho detto di nuovo, l'ho rivista, l'ho rivista, l'ho rivista, ho detto qua non è un caso e allora ho detto diamoci dentro e ripeto questo indicatore qui Matrix è un indicatore quantitativo, dentro al suo codice ci sono tanti strumenti, quindi è una sorta di analisi, ci fa una sorta di analisi intermarket dello spostamento, quindi dei flussi monetari e con una determinata logica e cognizione, io dico se in questo 15 minuti comprano quello strumento, vendono l'altro, oppure l'euro dollaro è più forte di questo, magari più debole di un altro, eccetera, si crea una condizione di spostamento di denaro che secondo me farà sì che euro dollaro possa salire piuttosto che possa scendere, quindi il Matrix che adesso rivediamo va a far che cosa? Va a cercare di codificare la scia dei soldi, non la scia dei prezzi che è quello che fa l'analisi tecnica, perché che cos'è un grafico? Un grafico lineare a candele, a barre, non è altro che la scia dei soldi, sì, la scia che i soldi hanno avuto, però i prezzi oggigiorno vengono molto manipolati con il trading ad alta frequenza e tutte le cose che sappiamo, le candele non dico che vengano disegnate ad hoc, ma ci manca poco, soprattutto in certe zone del grafico, quelle inerenti soprattutto agli stop running, mentre seguire lo spostamento dei flussi e dei soldi può essere più interessante, ed è quello che fa Matrix. Allora, io sono partito il 30 di gennaio, ho fatto un po' di operazioni l'ho testata e poi abbiamo iniziato ad usare il Matrix, perché mostrava e mostra ancora un equity line interessante. Dal 30 di gennaio, con un pip di spread e ovviamente togliendo anche i costi dei buffer, ha prodotto circa 1300 pips, per dire, dal 30 di gennaio. Quindi ho detto, beh, questa roba qui è decisamente incredibile. E per creare l'equity line grigia, noi usiamo il pattern 1 e adesso ve lo faccio vedere. Il pattern 1 va decisamente bene, però ogni tanto vediamo che è un po' poco reattivo. E allora, se non ricordo male, ieri o l'altro ieri, perché poi a volte proseguendo gli studi alla mattina presto e nella notte, uno si può confondere se era ieri o l'altro ieri, ma questo non importa. Comunque, nelle ultime X ore ho detto, però non riuscirò, osservando, osservando, osservando questo indicatore Matrix, a trovare una soluzione per renderlo più reattivo e poi guardando, 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 perché da lì non si scappa, che cosa è successo? Che credo di averla trovata. E ho trovato una modalità 2 per usare sempre lo stesso indicatore. Ok? Quindi, da qui poi ognuno di noi potrà scegliere, perché la modalità 2, con due versioni che hanno semplicemente una diversità nel prendere il target, però vedremo anche questo in questo video, diciamo che sugli stessi giorni, vedete, il pattern 1 fa circa 160 operazioni, il pattern 2 ne fa circa 250, quindi è molto più assiduo. Quindi, in base alla possibilità di stare o non stare al PC e anche alla volontà di farlo o non farlo, il pattern 1 è più tranquillo, il pattern 2 è più aggressivo. Però il pattern 2 risolve molte problematiche che il pattern 1 finora non risolveva, in realtà solo una problematica che adesso vi faccio vedere e tra l'altro per cercare di risolvere quella problematica ho visto che poi sulla fine guadagna anche di più. Ripeto, non sono pochi quasi 1400 pips in, mi avete detto prima, dal 30 di gennaio sono circa 34 giorni. Ok? Non sono pochi. Con la possibilità, adesso così vi codifico tutti, anche di lavorare in un orario preciso e il beneficio di andarsene tutte le sere a letto flat, quindi è solo operatività in giornata. Allora, l'operatività sul pattern 1 come orario è stata un po' più elastica, sul pattern 2 ho preferito renderla proprio precisa. Sul pattern 1 la regola è questa, poi vi faccio vedere i pattern, intanto mi sto registrando, poi da questa registrazione Davide e Eugenio mi aiuteranno, ne faremo una dispensa e poi vi darò anche la dispensa, perché magari qualcuno se lo vuole stampare, avere lì il pattern stampato sulla scrivania e insomma vederlo bene con i propri occhi e memorizzarlo. Allora il pattern 1 è il seguente, noi iniziamo a lavorare su entrambi i pattern dalle ore 10 di mattina, ho detto una cavolata, dalle ore 10 del broker di riferimento che però essendo un'ora avanti iniziamo a lavorare dalle 9 italiane, abbiate pazienza, sto anche guardando il cable, mi ha distratto un attimino. Allora, quindi noi iniziamo a lavorare dalle 9 di mattina, il pattern 1, equity line grigia, si sviluppa così, è stato testato in questa maniera, praticamente se io alle 16 italiane sono in profitto, finisco lì la giornata, se invece alle 16 sono in negativo, allora proseguo fino alle 17, fino alle 18, fino alle 19, non sono andato mai oltre, perché poi 18-19 cosa succede? Si abbassa la volatilità e quindi viene automatico che non convenga più continuare a tradare, però se noi alle 16 siamo in negativo, io ho preferito continuare a tradare vedendo il beneficio, perché ovviamente cosa succede? Che magari io per arrivare alle ore 16 in negativo ho preso della varianza negativa, però siccome l'inefficienza mi sembra bella presente, allora dico l'inefficienza c'è e faccio come l'esempio è sempre quello del casino, il casino ha una piccola inefficienza di un 2,7% circa sulla rouletta americana e per guadagnare tanto che cosa fa? La fa girare questa inefficienza tantissime volte, quindi tanti tavoli per tante ore eccetera, allora il discorso qui è molto simile, io alle ore 16 sono in negativo, ma so che l'inefficienza funziona, mi concedo di andare avanti ancora 2-3 ore, poi dovrò fermarmi per forza di cose perché la volatilità si abbasserà, quindi questa era l'idea dell'equity line grigio, orario di lavoro dalle 9 alle 16 se positivi fino anche addirittura ai 19, quindi questo vuol dire che alle 12 se c'è il segnale si entra, se c'è alle 12.30 stiamo mangiando e c'è il segnale lui entra lo stesso, quindi da qui in avanti se qualcuno mi dice io Fabri vorrei tradare dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14 per dire alle 16 oppure fino a più avanti se eccetera e quindi lasciare un buco di 2 ore dalle 12 alle 14, io non dico che vada male, però non vi do quella statistica perché non ce l'ho, io l'ho fatta dalle 9 in continua, però voi nei prossimi giorni potreste farvi la foto, lo schermo della 3D room e sempre dalle 12 alle 14 e vedere dopo una ventina di segnali in quella fascia oraria se vi convenga farlo oppure no, ok, trading in quell'orario lì. Chiuso il discorso sull'equity line grigia, le equity line qui arancione color blu, dopo le vediamo nei numeri, allora invece ho deciso di farle in un'altra maniera, ovvero si trada dalle 9 italiane fino alle ore 16, basta, alle ore 16, cosa significa tradare fino alle ore 16? Che alle ore 16 apro ancora l'ultimo segnale, che poi magari chiuderò anche alle 17, alle 18, però non apro più altri trade dopo le ore 16 e quindi se alle ore 16 entro e poi alle 16.05 sono in profitto finisco di tradare alle 16.05, se io entro alle ore 16 e poi mi arriva un reverse alle 16.05, io non faccio più lo stop del long ad esempio e mi giro short, no, se sono long e alle 16.05 mi dà profitto segno il più, se alle 16.05 mi dà un segnale contrario segno il meno o anche il più perché vedremo può essere anche una chiusura in trading stop, comunque alle 16.05 io mi fermo, non continuo, questo per Fabri, per me e produce questo lavoro qui. Poi chiaramente ci saranno dei segnali buoni anche fino alle 18, 17-18, lì aspetta voi, anche lì fare una statistica, ok? Io Fabri abitualmente alle 16 ho sempre continuato a far trading perché ho i miei sistemi, allora mentre avete i vostri sistemi che vi fanno tradare fino alle 18, date un occhio anche a Matrix, ok? Però questo qua finisce alle ore 17.00. Quindi la miglioria è doppia rispetto al pattern 1 perché dopo le 16.00 ci sono tanti segnali buoni, ma qua non li ho presi, ok? Proprio perché ho deciso di fermarmi a quell'ora. Va bene, detto questo, ultima cosa, chiaramente io credo che tutti quanti tenderemo a scegliere questa, però questa non la scarto perché questa è molto più tranquilla. Questa qua, adesso vi faccio vedere le differenze tra i due pattern, richiede presenza al PC e capacità di entrare adesso e tra 3 minuti stopparsi, rientrare tra altri 10, ok? Quindi richiede più assiduità. Poi se volete ancora avere delle informazioni su queste due equity qui, qual è la differenza tra queste due? Semplicemente il target, adesso poi vi farò vedere che il pattern richiede anche un'uscita target e sull'equity line arancione il target è 30 pips di grafico, come giustamente ha sottolineato prima Davide e dopo lo vediamo. Sull'equity line blu il target sono 20 pips, quindi vuol dire che in realtà l'operazione è sempre andata in profitto di 22-23 e io ne prendevo 20, oppure qua andava in profitto di 32-33 e io ne prendevo 30, ok? Allora, scegliere una o scegliere l'altra, secondo me deve essere fatto di nuovo in base più che altro a capitale psicologico, perché una guadagna 1.200 qualcosa, l'altra guadagna 200-150 in più che non li butterei via, però ci sono due comportamenti psicologici differenti. Guardiamo qui di fianco, questa è la colonna dei 20 e questa è la colonna dei 30. Vedete che ad esempio al terzo trade testato il sistema da più 20 andava più 20 e l'altro perché se non va a target o va a stop o va in reverse e quindi andava in reverse, meno 8, ok? Chiaramente già solo sull'operazione dopo di nuovo 20, però l'altra ne prende 30, questa ne prende sempre 20 e questa ne prende 3. Allora, quando uno vede quello e fa pochi trade e dice ma Fabri è evidente che convenga prenderne 20, si sta meglio, si prendono più facilmente, eccetera. E io faccio i test anche per questo, se voi fate 4 operazioni avete ragione a uscire dopo più 20 pips, se voi ne fate 250 ha ragione chi tiene fino ai 30, non c'è niente da fare. Scegliete voi, del resto sceglierò anch'io, probabilmente la via migliore sarebbe a più 20 sempre splittare, no? Per dire, e poi l'altro gestirla in reverse o sul target dei 30. Vedete voi, se scegliete la 30 guadagnate di più, però dovete essere pronte a vedere un più 20 che si trasformi in un meno 8, un più 20 che si trasformi in un più 10, a seconda di dove dava il segnale di reverse, un più 20 che diventi un più 1, ok? Un più 20 e qua sarà arrivato quasi a 28 e poi ha chiuso il sistema a più 22, ok? Un più 20 che diventi un meno 9, decidete voi, ok? Se siamo predisposti per vedere un più 20 e poi diventa un meno 9, ci mangiamo tutte le dita, siccome poi le dita ci servono per cliccare sul mouse, allora è meglio non mangiarsi le dita che ci servono e scegliere l'equity line blu, ok? Per chi invece vuole può scegliere l'equity line arancione con il target di 30. Io direi che ho detto tutto. Andiamo a vederne i numeri, andiamo a vederne i numeri qui sotto. Allora l'equity line grigia è nell'altra pagina. L'equity line grigia ha fatto 165 finora operazioni delle quali 60 in loss, quindi perde il 36% delle volte, ok? Ha un loss medio di 11 pips e un gain medio di 20 pips, circa, più o meno quasi, ok? Intanto sta andando molto bene il nostro long school cable, ricordo il target effettivo ufficiale è intorno ai 95-96, però l'abbiamo messo un po' più in alto, ok? Però seguiamolo un attimo. Siamo a 85, potremo anche a 95, scusate l'intermezzo, però sta arrivando quasi al nostro target. Se batte 93-95, ragazzi, io ne splitto ancora una parte, eccola qua. Attenzione un attimo, insomma, sono sempre 40 pips. Scusate un attimo, ma io ne splitto una parte qui. Vediamo un attimino. Vedete che è vera la regola? Se vogliamo andare a target dobbiamo fare i video. Allora ragazzi, io, 93, se lo batte al ribasso, splitto 95, siamo a target. Boh, io ne ho splittato una parte ragazzi, quindi direi che Londra ci ha dato oggi un grande beneficio, ok? Quindi sommando quello che abbiamo fatto di questa settimana e del giovedì abbiamo di nuovo il più in tasca, ok? Poi chi ha fatto anche più metrics dovrebbe avere anche di più, ancora più marcati. Quindi anche questa settimana la chiudiamo in positivo e solo giovedì c'è ancora domani, insomma, comunque affermarsi oggi siamo in positivo. Ok, non la guardo più ragazzi, a questo punto il target che avevamo messo a 49-01, visto che ho splittato qui, a questo punto lo sposto un attimo. Ci sono dei massimi, sto guardando il grafico, abbiate pazienza, poi riprendiamo il webinar, però dobbiamo seguire l'operazione. Lo alzo ragazzi, non lo lascio più 49-01, lo metto qui dove secondo me ci sono degli stop che vanno a prendere. 49-11. Allora, scrivo, perché il segnale ufficiale come Londra e quello sui dati macro ve li passo anche per iscritto. Quindi chiuso altro pezzo a 1.48.93 e messo target ultimo per quello che mi rimane, rimane a 1.49.11. Finito. Basta così. Allora, quindi qua il sistema con l'equity line grigia, che è il pattern che chiamo 1, per capirci o capirsi, ha questi risultati. Invece se noi andiamo nell'altra pagina e andiamo a vedere il pattern 2, adesso vi ho lasciato un attimino sulle spine ma ve li faccio vedere, entrambi i pattern 2 fanno 242 operazioni. Quello che va a prendere i 20 pip di target perde il 43% delle volte. Ed è logico che invece quello che punti a prendere i 30, perché è un po' più difficile, perda un 4% delle volte in più. Quindi perde il 47% delle volte. Per essere un sistema trend follower, se me lo concedete, continua ad avere delle performance pazzesche, veramente pazzesche, l'avevo già spiegato, quali dovrebbero essere le performance di un trend follower. considerando che il mercato rimanga al 70% del tempo in laterale e solo il 30% del tempo in trend. Quindi ragionate sul 70 e sul 30 e vedete qui il 47 e il 43%, lavora alla grande. Abbiamo un gain medio di 17 pip e mezzo e di 20 pip virgola 3 e un loss medio di 8 e mezzo di 8,3. Perdiamo più volte, però perdiamo 8,5-8,4 pip. Di là perdiamo di meno, ma perdiamo 10-11 pip. Ripeto, quella è un po' la sintesi dell'equity line che avete visto sopra. Poi in questo foglio ci sono una marea di altri studi, altri numeri, insomma vedete qui sotto e il foglio di lavoro, insomma. Quindi questo è quello che ho realizzato fino ad oggi. Quindi 250 operazioni sono statisticamente un numero interessante. Va bene, andiamo a vedere i pattern. Allora, noi tra l'altro questa mattina, per chi fosse arrivato adesso, siamo entrati long qui sul cable, abbiamo fatto i vari split e sono contento, è andata bene la giornata e anche la settimana. Allora, prendiamo il 17 di marzo. Vuoi che il 17 porti fortuna? Non lo so, però il 17 di marzo è stata la fortuna. Vedete, io dico sempre una cosa, dico sempre quella frase buddista che dice così, ovviamente non mi riferisco e non mi riferirò mai a nessuno, però ripeto, è una citazione delle parole del Buddha, no? Che ha detto, lo stolto di fronte al problema si rattrista, il saggio di fronte al problema si rallegra. Punto. Ora, potremmo scherzare ridere, è anche bello fare ogni sorta di battuta su questa frase, no? Perché, ma chi è quel saggio lì che di fronte al problema si rallegra? Come fa a rallegrarsi? È perché è lungimirante, come minimo, ok? È perché capisce che ognuno di noi, no? Può capire che la crescita che abbiamo avuto nella nostra vita non è stata quando abbiamo avuto la situazione favorevole, ma noi siamo cresciuti sempre di fronte a una situazione da dover risolvere, sfavorevole, quindi di fronte al problema, ok? Se noi ieri non avessimo il 17, non avessimo fatto un long qui da metodo e non lo avessimo stoppato qui, dove tra l'altro chiamava anche un reverse, noi avremmo proseguito con il pattern 1, ok? Che per carità non lo butto via, infatti che cosa è successo? Prima di arrivare al pattern 2, che adesso vi faccio vedere, io ho fatto anche con Davide in questo momento perché Eugenio è un po' fuori combattimento per adesso, ma poi si riprende, insomma a mal di gola eccetera, però o con Davide o con Eugenio, poi anche tra di loro, insomma tra di noi abbiamo cercato varie soluzioni e non sono subito arrivato alla soluzione 2, però ripeto, se io non avessi avuto questa cosa qui, questo problema, sarei rimasto alla soluzione 1, che per carità avete visto l'equity line, in 34 giorni cosa ha fatto? Mille e qualche pips, cioè è una cosa sempre straordinaria, però ripeto questo è stato il problema. Ora non è che di fronte a uno stop loss io mi vada a rallegrare, però mi dico cavolo questo mi fa tirare su le maniche, mi ha fatto svegliare prima, mi ha fatto andare a dormire dopo, mi ha fatto stare sicuramente più ora al pc, però la soluzione non l'ho trovata e quello che è venuto fuori mi piace decisamente. Allora, il pattern 1, cominciamo a mettere giù due regole altrimenti non ne veniamo fuori. Allora il pattern 1 ovviamente è entrato anche prima, però prendiamo l'ultimo segnale. Allora il pattern 1 si sviluppa così, nel momento in cui io in chiusura di candela, indipendentemente lo vedremo ancora meglio con il pattern 2, da come si è fatta questa candela, perché altrimenti ci mettiamo a fare la price action sulle candele giapponesi, facciamo quello che viene fatto dal 1700, ok, più o meno, quindi voglio dire facciamo quello che fa tutto il pianeta Terra e qual è il vantaggio di fare quello che fanno tutti gli altri? Nessuno, evidentemente. Quindi cerchiamo di andare avanti, di diventare più moderni, perché il trading è poco moderno se ci pensate bene, il trading è moderno nelle istituzioni, dentro le istituzioni, ma dentro le nostre case, quindi dei piccoli privati, dei piccoli gradiatori, c'è poca modernità, perché possiamo prendere, fare dei grafici molto anche belli dal punto di vista dei colori, eccetera, ma se continuiamo a colorare lo stocastico, le RSI, le bowling, eccetera, continuiamo a fare una cosa che veniva già fatta 20, 30, 40 anni fa con gli oscillatori, gli indicatori o da centinaia di anni con le candele giapponesi. Quindi, siccome tutto si è evoluto, anzi vi dicevo, InterNOS di Trading Room, badate i campi che non si siano evoluti negli ultimi 50 anni, uno che si è sviluppato enormemente è la tecnologia e lì c'era il benestare di qualcuno. Se vi vengono in mente dei campi che negli ultimi 50 anni non si siano sviluppati, evoluti, e ce ne sono, ve ne ho detti almeno due, è perché dietro ci sono degli interessi. E quindi, oltre a quei due là, mi sembra che anche il trading privato non si sia estremamente, se ci pensate, evoluto, perché un'evoluzione su tutti sarebbe abbandonare l'analisi tecnica e andare a tradare con l'analisi quantitativa, che è quello che facciamo qui nella mia Trading Room. Non è evoluzione prendere una candela giapponese e trovare un ingresso diverso, uno stop loss diverso, perché quel nostro prendere la candela giapponese e tradarla diversamente, pensate che nessuno l'abbia già fatto sul pianeta Terra, io credo che sia già stata fatta qualsiasi modifica a tutte le candele giapponesi sul pianeta Terra. Quindi la vera evoluzione non è prendere qui, inserisci indicatori, metterli con mille setup, settaggi, farli interagire tra di loro, no, è proprio cambiare strada. E io l'ho fatto con l'analisi quantitativa, che poi non è infallibile, però sicuramente mi fa andare più avanti rispetto a tradare con uno stocassi, con un RSI, dettagli italiani, eccetera, eccetera. Detto questo, anche la tecnica di Londra, che appunto mi confermate, non mi scrivi, grazie Roberto che funziona bene, ed è molto pratica, perché questa mattina sulla tecnica di Londra ci abbiamo messo due minuti di lavoro, il tempo di mettere long qui sopra, insomma, è andato bene, no? Allora, detto questo, quando io in close, indipendentemente da questa candela X, abbia un istogramma che abbia la componente verde maggiore del 3, cioè maggiore del livello 3. Ok? E l'istogramma rosso uguale a meno 3 o maggiore di meno 3, quindi a meno 2, meno 1 o 0, ma basta che sia al livello meno 3, io ho un setup long, o un setup long. Quindi che cosa faccio? Prendo il massimo di questa candela, gli sommo un pip, più evidentemente entrando long anche uno, se ne avete uno di spread su Euro-Dollaro, e quindi comunque di grafico, poi lo spread ve lo calcolate sul vostro broker, di grafico io entro un pip sopra questo massimo, quindi entro long qui sopra. Una volta che io sia entrato lì, devo andare a target dei 30 pips, ora non ho fatto il test dei 20 pips sull'equity line del pattern 1, l'ho fatta direttamente a 30, perché 30 è un numero istituzionale sull'Euro-Dollaro sicuramente, ve l'avevo già spiegato, quindi sono partito da lì, e comunque non funziona male. Allora, una volta entrati long qui, o si prendono, o va su di 30, non tutto tirato, vedremo altri segnali, ma che comunque non ci faccio uscire, oppure se io entro long qui, e per la sfortuna assoluta, e può anche essere contemplata, io magari entro qui long, e succede qualcosa, e nella candela dove io appena sono entrato, crolla, ecco che, difficile ma non impossibile, ecco che io debba essere pronto a stopparmi intorno ai meno 100 pips. Perché dico intorno ai meno 100 pips? Perché dipende come ci arriviamo, ok? In ogni caso è un'ipotesi che per ora non sia manifestata ed è comunque abbastanza remota. Detto questo, scusate un secondo, devo guardare una cosa, perché oggi mi è venuta in mente una cosa, che c'è il Virtual Expo, io dovrei essere presente anche di là, però non mi ricordo più a che orari, e quindi andiamo bene, andiamo. Volevo vedere un attimino, non mi ricordo neanche più dove ho messo il link, vediamo un attimino. Abbiate paziente, è venuto in mente adesso, io devo essere di là, alle ore, dove parlerò, se parteciperete vedrete il titolo ovviamente provocatorio, la vera, poi tra parentesi segreta, analisi del prezzo, quindi dalle 12.45, quindi vabbè sono le 11 ho tempo. Va bene? Ok, ah grazie, perfetto. Ok, poi anche questa sera alle 19.30, va bene. Allora, quindi noi entriamo long qui, se va su di 30 prendiamo il target, se va giù di 100 ci dobbiamo stoppare, ma non è uno stop loss immediato, il 100 è più un punto di riferimento sul quale andare a marginarci. Quindi io dico sempre, quando partiamo con un progetto partiamo con uno 0,5, 1% del nostro capitale, quindi rischiamo sul pattern 1 in 100 pips di potenziale perdita, 1,05%, 1,1% del capitale. Quindi questo mi dà il vantaggio che qualora veramente entrassi qui e veramente mi crollasse subito di 100 o mi posso riservare la possibilità di vedere il prezzo anche andare a ballare a meno 110, meno 120, meno 130. Poi se sui meno 130 proprio vedo che non vuole reagire, allora mi accolo la perdita di meno 130. Poi se sono 140 va bene uguale perché facciamo che entriamo con l'1%, anziché perdo l'1%, perdo l'1,4, voglio dire sta nella mia ipotesi di lavoro, quindi non mi va a turbare oltremodo. Comunque è remota questa possibilità. oppure una volta entrati long qui io devo stopparmi e se l'orario è adeguato anche far che cosa? Stopparmi e girarmi in short. Quando è che ho lo stop loss del long o a meno 100 pips con la specifica anche meno 130, meno 140, attenzione al nostro long sul cable, se rompe gli 0,3 è difficile che non vada a 10. Se rompe 1,49, 0,3, discorso di numeri primi, è difficile che non vada a 10, cioè è più probabile che vada a 10. Tanto per noi è tutto straordinario in più questo. Ecco allora io mi vado a stoppare dal long solo quando verranno meno i compratori. Che cosa vuol dire Fabri questa frase? Che io entrando long qui sopra, perché questa candela di setup aveva i verdi giusti e i rossi giusti, io rimango long fino a che non devo neanche guardare il grafico, fate finta di non guardarlo e rimango long fino a che i verdi mi supportino, scusatemi. Perché se i verdi verranno meno, cioè andranno sotto livello 3 e i rossi saranno a meno 4 o inferiore, allora ovviamente avrò un setup contrario. Quindi io qui ho i verdi e rimango long, qui ho i verdi e rimango long, qui ho i verdi e rimango long, qui ho i verdi e rimango long. Fabri ma come mai rimani long e questo ti sta crollando? Perché finché io ho i verdi il setup è stato quello, l'inefficienza che ho intercettato è stata quella. Nel momento in cui però il mio long preso qui sopra non sia più appoggiato dai compratori che è questa zona qui, dove non ci sono più livello 3 di compratori e ci sono tanti venditori, è chiaro che io sotto di questa, di un pip, debba mollare il long. Quindi il loss è questo qua. Ok? Benissimo. E chiaramente, ovviamente io qua posso anche girarmi short, posso anche girarmi short e per farvi vedere ad esempio, attenzione che ci siamo quasi, vedrete che andrà a 10, se rompevo i 3 vi dicevo che andava a 10, guardiamo un attimino, io a 11-10 la chiudo tutta ragazzi, abbiamo fatto 60 pip su questo pezzettino, attenzione un attimo, eccolo, chiuso, finito. Avete visto? Numeri primi, poi ve li sto spiegando un attimino pian pianino perché non è neanche difficile, non è neanche, scusatemi, facile, non è difficile usarli dopo che lo fai da tanti anni, ma non è neanche troppo facile codificarmi le regole, avete visto prima che abbiamo iniziato a mettere giù per iscritto alla dispensa, abbiamo detto facciamo il video e poi la dispensa la fanno a bocce ferme Eugenio e Davide. Ok? Quindi il trade direi che è andato bene. Ok? Quindi sono contento insomma. E siamo flat. Ok? Bene. Allora detto questo, io qui mi giro anche poi da qui che sono short, seguendo sempre il pattern 1, cosa faccio? Dov'è che mi stoppo? è qui ci sono i venditori, 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 ci sono, ci sono, ci sono, ad una certa ora facciamo finta e decido di flattarmi a priori perché diventa una certa ora. Ma se avessi voluto tenere lo short fino a una prova contraria, allora io avrei dovuto dire che, così vi completo le regole, uno short preso qui sotto, poi questo è un orario, dopo un po' vedete che la volatilità in maniera naturale rallenti, quindi andrebbe poi mollato come orario, infatti ve l'ho detto prima. Però uno short preso qui e seguito da robot, allora deve essere tenuto finché ci siano i venditori. Guardate, ci sono fino a qui punto X. Benissimo. Quando nel punto X non ci sono più i venditori, la regola che ha questo pattern è la seguente. Stoppati, o comunque reversati, sopra alla candela di setup, perché questa diventa, questa candela diventa di nuovo come questa. Anche se le candele sono diverse, sotto vedete lo stesso histogram, verde e rosso, corretto? Ok? Quindi per il sistema lì è un long. Ma nel momento in cui, no, che dici? non sono le 16, qui sono le 19, Pietro, sono le 20 e 30, 19 e 30. Maurizio ci dice, ciao sono Maurizio, vi seguo da solo due settimane, siete fantastici, grazie, insomma grazie di cuore. Ripeto, intanto grazie sempre, anche per l'altro venerdì, siete stati numerosi, sia che entra di rom, sia che fuori, cerchiamo di impegnarci per fare tutto bene e moderato. Ok? Quindi seguendo i pattern abbiamo le statistiche che vi ho detto, alcuni pattern lavorano anche al 90%, altri, ad esempio quello che vi ho spiegato nel discorso del webinar aperto a tutti, non c'è sempre il segnale, ma quando c'è ok, eccetera, eccetera. Quindi grazie Maurizio e benvenuti insomma. Allora detto questo, io qui avrei un segnale long, ok? Che mi farebbe uscire dallo short preso qui sotto, però questo pattern dice, il testo è stato fatto così, se tu sei ancora short da qui e non ti ha dato i 30 qui, sopra di questa che non hai i venditori, esci se il breakout arriva subito in quella dopo, se non arriva in quella dopo, non me ne frega che sia arrivata in quella dopo ancora. Quindi io uscivo dallo short o in questa, se rompeva il massimo di questa, oppure se non capita questa situazione grafica, allora io, niente, mi rimetto flat. Quindi questo cosa vuol dire? Che io sono short da qui ad esempio, ok? Metto uno stop loss, perché l'orario ormai è solo più da stop loss, no? Sopra di un pip più spread di questa candela e lo lascio lì in macchina. Lo lascio lì in macchina per quanto tempo? 15 minuti. Quando la candela qui chiude e non ha fatto il breakout, ok? Siccome si genera un altro histogramma che ha di nuovo i venditori, io ritorno a toglierlo, quindi lo tolgo, quindi quando va lì sopra non mi prende perché io l'ho tolto e quindi continua a rimanere short, ok? Chiaramente ad un certo orario conviene decidere di prendere poi profitto dello short, ok? Però se noi volessimo andare a vedere dove è uscito questo short, dobbiamo cercare la candela che non abbia più venditori, quindi qui avremmo avuto un alert, ma non è entrato, ritornano i venditori, 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 eccetera, eccetera, qui non ci sono più i venditori. Allora qui sopra io avrei chiuso in maniera robotizzata, diciamo così, un robot che però non aveva nei suoi parametri gli orari, altrimenti già con gli orari avrebbe chiuso, allora avrei chiuso lo short, ok? Poi qui non mi vado a girarmi long perché ovviamente è una certa ora. Questo pattern è molto bello rispetto al fare semplice price action per un motivo, ad esempio queste spike di sporcature varie che fanno per prendere gli stop, perché se io entro long qui ad esempio da price action, magari decido di mettermi lo stop loss qui sotto o qui sotto me lo schiappa, ma io in realtà con il pattern 1 supero questo problema, quindi il pattern 1 è già molto più evoluto che è una semplice price action, perché io ho entrato long qui, quando questa mi chiude ho i compratori, no? E quindi non mi vado a stopparli sotto, quando questa poi chiude addirittura ancora i compratori, quindi rimarrei almeno fino a qui, poi da qui se viene rotto devo uscire, bla bla bla, ok? Quindi è già un'evoluzione rispetto ad una price action, però il pattern 1 che ha queste dinamiche, credo di non averne dimenticata nessuna, adesso facciamo tutta la giornata del 17 così vengono magari fuori ancora delle cose e l'abbiamo completato, ha la problematica che abbiamo vissuto il 17 perché qui entrando long e non arrivando a target, oh ragazzi si tiene fino a qui, poi non è che si faccia un disastro, si perdono 30-40 pips, però sono 30-40 pips persi, ok? Chiaramente a far così avrò dei benefici in altre dinamiche, che ne so ad esempio qui, se io qui entro long, allora qui il prezzo inizia a scendere, però i compratori arrivavano e i venditori se ne andavano via, quindi tutte ovviamente osservazioni che ci servono e che ho fatto per ovviamente poi creare il pattern 2, mi sono fermato lì un attimino a riflettere, quindi il discorso qual è? Se io facessi price action normale, magari per dire sopra questo martello potrei entrare long, però puoi mettere lo stop loss sotto la sua metà o sotto il minimo, comunque dove l'hanno messo gli altri perché se no non sarebbero andati a prenderli, ok? Quindi l'evoluzione della price action è la price action con la PA, così facciamo prima, PA uguale price action, quindi la PA con matrix, perché la PA con matrix mi dice, sopra di questa entra long, perché vedete che ho i compratori e non ho i venditori, in realtà anche sopra quella di prima mi dicevo di entrare long, perché non avevamo venditori e avevamo compratori, però il breakout è arrivato solo su questo, quindi io qui entro long, una volta che io sia entrato long lì, cosa devo fare Fabri? Non devi guardare il grafico, se non per i target, ma devi guardare gli histogrammi sotto, perché è entrato long qui sopra, nella candela che chiude qui, tu hai ancora i compratori, sì di meno, però lì è ancora sopra il livello soglia che è stato quantificato in un livello 3, quindi quando qui il prezzo andava a prendergli stop, noi ovviamente rimanevamo long, no? E poi in chiusura di questa ritornavano i compratori e poi andava a target di 30 pips, ok? Quindi già è un vantaggio, però ripeto, qua superiamo bene e qua superiamo male, benché però superiamo male, ritorniamo un attimino indietro, ritorniamo al fatto che quando superiamo male subiamo questo drawdown, subiamo questo, max drawdown o comunque drawdown, subiamo questo, subiamo questo, subiamo questi, però poi il sistema, l'inefficienza c'è e credo che anche qui riprenderà nuovi massimi, ok? Bene, quindi questo per dirvi che ogni tanto si prende uno stop loss di 30-40 pips, mai di 100 almeno per ora, però farle tutte e dargli fiducia il sistema si riprende, ok? Infatti il 17 lavorava così, il 18 lavorato decisamente meglio e si è riportato a fare dei pips in guadagno, ok? Bene, allora sul pattern 1 io direi di aver detto tutto, ovviamente guardate qui, se io qui entro long, poi non mi stop, vado a target, poi sono flat, una volta che io sia flat posso decidere di continuare, no? E quindi cosa succede? Che in questa discesa dov'è l'unico punto in cui arriva il segnale short? Qui, perché qui ho i compratori, quindi non posso entrare short, qui non ho i compratori e i venditori sono pure di più, quindi a breakout io entro short qui sotto, una volta che io sia entrato short lì sotto, ok? E devo tenere fino a quando i venditori, e qui li ho, fino al punto X, e quindi solo qui sopra il sistema si stop, quindi perdo questo, 30, 40, 50 pips, sono già messi dentro l'equity line che vi ho appena fatto vedere, quindi non ve la faccio più rivedere, e li prende questi in stop, ok? Poi ad esempio ci possiamo moderare e dire nel momento in cui mi vada contro di 50 pips, mi ricordo dei movimenti istituzionali di 30 pips sull'euro dollaro, quindi quando da qui scende eccetera, no? Io quel giorno sono stato fortunato perché questo non l'ho fatto perché ero stanco e volevo mangiare tranquillo e sono arrivato quando era più o meno qui e l'ho shortato lì, subito, di botto, perché vi avevo detto, sarei già dovuto essere short da qui, no? Quindi anche questo può essere un modo di fare, tra l'altro, no? Che ci può anche far pensare a mettere degli aggiuntivi o altro, per adesso non ho mai messo oltre modo aggiuntivi in questo senso qui, ok? Ce ne sono proprio pochi dentro l'equity line grigia. Dentro l'equity line del pattern 2 non c'è neanche un aggiuntivo, quindi sono tutti ordini puri, singoli, ok? Tra l'altro, quindi il beneficio è enorme, il vantaggio del pattern 2 è alto, però richiede più assiduità. Allora detto questo, se avete, così prendo un timino fiato, avete domande o vi ho lasciato dei dubbi sul pattern 1? Avete capito dove si entra, come ci si va a immaginare dove si esce, dove ci si stoppa e si gira e si va a target? Credo che sia tutto chiaro, ok? Poi al limite serio, ascoltando questo video vi rimangono dei dubbi, ve li iscrivete e poi in 3D al room li chiedete. Allora andiamo alla miglioria che è il pattern 2. Allora il pattern 2 è questo. Partiamo dal punto difficoltoso. Io ho guardato qui, no? Ho detto ma qui non riesco a trovare una soluzione? Non tanto sui prezzi, perché i prezzi sono triti e ritriti, ma sul metric, sugli histogrammi di metric. Sì, allora il pattern 2 è il seguente. Praticamente io sopra questa candela entro, no non entro lì, entro prima. Allora il pattern 2 è questo, è molto facile. Allora il pattern long richiede la vostra osservazione degli histogrammi e gli histogrammi per 10. Pattern long devono essere messi così. Potrei cancellare i livelli, non ce ne frega dei livelli, ce ne frega della forma degli histogrammi, ok? Allora gli histogrammi devono essere così per dare un long. Praticamente verde così e rosso così. Quindi minimi e massimi crescenti, ok? All'interno di due candele o all'interno di due histogrammi, preferite ditela come volete. Quindi quando io ho verde che cresce e rosso che anche ha un minimo crescente, allora vado long, ok? Cioè vado long. Ho setup long. Quindi in questo caso setup long del pattern 1 era sopra questa che non aveva venditore, quindi entravo qui. Nel pattern 2 invece io vedo che questa è la prima candela e sulla seconda candela si crea, vedete, salita dei verdi e salita dei rossi. Ditela come volete, insomma, comunque vedete l'inclinazione. E quindi io entro long qui sopra. Entreremo tante volte prima, proprio veramente tante volte prima. Quindi siccome facciamo intraday, ora non è tanta roba, però entrare anche solo 5 pips prima non è neanche poca roba in realtà, ok? Quindi entreremo prima. Allora una volta che io sia entrato long qui sopra, rimangono le due opzioni. O prendo più 20 o prendo più 30. Decidete voi, ad esempio io da qui, di grafico, questo grafico qui, questa roba qui va a 20.01, tendenzialmente se non ne prendo 20 ne prendo 18, se avevo l'obiettivo dei 20, ok? Se avevo l'obiettivo dei 30 invece non prendo niente, ok? Devo rimanere per forza di cose dentro al mercato. Quando entro long qui, sempre una marginazione su 100 pips, ma ragazzi io credo che ci si possa marginare sui 50 pips addirittura. Perché non vivremo mai dei movimenti fortemente contrari. Cioè su 250 operazioni il movimento più grosso che abbiamo subito è stato il 26 di febbraio quando, poi la possiamo vedere, ha perso il sistema circa 40 pips. Ma altrimenti perdiamo tante volte 5, 6 pips, 2 pips, 3 pips. Abbiamo visto, abbiamo un loss medio, lo rivediamo, abbiamo un loss medio sia per l'equity line con i 30 che con i 20, aspettate un attimo che scorra giù un attimo, che è un pochettino lento, ma ce la facciamo, ecco qua. Abbiamo un loss medio di 8 pip e mezzo, con, non l'ho scritto ma ve lo dico adesso, poi lo segno, un loss su colpo singolo, diciamo così, sul singolo trade di circa 40 pips, dopo ve lo il pattern 2 ci si possa immaginare, ora non dico su 50, perché tipo in questi giorni cioè da ieri sera la volatilità è molto alta, magari conveniva rimanere sui 100, ma non è che tutti i giorni però sull'euro dollaro fa 400 e passa pips, no? Quindi a parte ieri e oggi che ne farà di nuovo, non so quanti ne ha fatti 200, non lo so, già da lunedì ritornerà sui 150, quindi sui 150 pips di media, ok? Secondo me ci si può immaginare sicuramente sui 70 o forse anche 60 pips, ok? Quindi abbiamo già un altro beneficio, non ci dobbiamo più immaginare sui 100 pips, ma anche un po' di meno. Detto questo, allora io entro long qui sopra, perché ho questo pattern, nel momento, adesso qui diventa un peletto più complicata la cosa, ma neanche troppo, allora seguitemi, io ho questa close e ho sotto il pattern, ok? Si vede, lo vediamo, allora io a breakout di un pips più spread entro long sopra questo massimo, quindi qui sopra io entro long. Quando entro long lì ho il rischio di 70-100 pips, quelli che vi ho appena detto. Appena chiude la candela, quindi al massimo aspetteremo un quarto d'ora, no? Lì magari il primo pezzo della candela ha già consumato 10 minuti di tempo, quindi qui abbiamo aspettato 5 minuti, comunque che siano 5, che siano 15, ma non più di 15 ovviamente, io in close di questa candela devo andare a vedere l'istogramma sotto. Nel momento in cui la close di questa candela mostri ancora una crescita, perché vedete che qui ancora i verdi crescono e ancora anche i minimi crescenti si manifestano anche sui rossi, allora io ancora non devo mettere uno stop loss e quindi ancora ho i 70-100 pips di stop, ok? Se invece, prendiamo questo pezzo, prima di andare avanti con il reverse, se invece io ad esempio, entrassi su questo pattern, quindi voi non dovete più, guarda, non dovete in senso amichevole se volete usare il mio metodo, nulla di imperativo ovviamente, quindi c'è di nuovo lo stesso pattern, io entro anche qui sopra, al close della candela qui, io vado a vedere che l'istogramma di quella candela lì mostra una decrescita, ok? Quindi addirittura sarebbe un pattern short in questo caso, però non è necessario che mostri un pattern short, potevo anche avere i verdi a pari livello dei precedenti, per me era già un alert, potrei anche avere avuto i verdi qui, ok? Addirittura qui avrei un segnale contrario, allora cosa faccio io? Sono entrato long qui e in questa close io automaticamente ho già lo stop loss 2 pips sotto questo minimo, ho messo 2 per non mettere uno che a volte sbava un po' di più, 2 pips ma non di più, quindi io entro long qui, al close di questa candela qui, vedo sotto come sono gli istogrammi, vedo che mi danno un alert e io metto lo stop loss 2 pips sotto questo minimo, finito, per quello che viene fuori un loss medio di 8,5 pips, perché noi se poi fosse crollato avremmo stoppato in questo spazio, quindi ne prendiamo di più di stop, l'abbiamo visto, un 10% in più rispetto al pattern 1, però di un'entità molto minore insomma, ok? Bene, allora andiamo avanti, io entro long qui sopra, in close di questa non posso mettere lo stop loss qui sotto, non posso, perché vedete che c'è ancora, non me lo dice di farlo i soldi, non mi dicono di preoccuparmi, mi dico tieni ancora per adesso, in close di questa, a meno che io non sia uscito qui a più 20, però se avessi voluto fare i più 30, in close di questa devo ovviamente ragionare di nuovo sotto e vedo che ho il pattern short, e niente, allora cosa faccio? Un pip sotto questo minimo, cosa faccio? Chiudo il long preso qui, lo chiudo lì, ok? E mi giro short, nel momento in cui mi giro short, tengo duro fino alla close di questa candela, vedo che agli istogrammi che addirittura mi direbbero long, quindi è interessante l'interazione tra soldi e breakout, ok? Quindi da qui si capisce che i soldi siano importanti, ma che i soldi si muovono necessariamente sui breakout, ok? Quindi questo è importante. Allora io con questo pattern qui di crescita che non si confà, per così dire, al mio short, allora io cosa dico, sono entrato short qui sotto e ho già lo stop loss qui sopra, 2 pips più spread, ok? Più il vostro spread. Quindi di nuovo perderei questo, cioè mi abbatte il rischio notevolmente, cioè stopperò più volte, però poca roba e quindi penso che ci possa far rimanere molto tranquilli, perché entrare e avere una potenzialità di stopparsi anche il 47% delle volte, ma perdere mediamente 8,5-9, no? E il 53% delle volte guadagnare quanto era il gain medio, non mi ricordo più, 18, non mi ricordo più, il gain medio era, sì, 17,5 se scegliete i 20 o 20 se scegliete i 30 e da lì è quello che viene fuori, cioè un gain in totale di quasi 2.600 pips e 1.000 persi, per carità, ne rimangono quelli che rimangono, insomma, ok? Bene, allora io mi giro short qui sotto, se non ho chiuso target e rimango short e poi da qui i 30 pips li danno, ok? Allora, vediamo dei casi dove entri lo stop ma non entri il reverse, perché attenzione a non confondere lo stop loss dal stop e mi giro, ok? Ad esempio, qui il pattern 1 entrava short qui sotto, il pattern 2 entrava sì anche short lì sotto, però il pattern poi 2 si stop reversava qui sopra. Vediamo un caso dove ci sia solo uno stop loss, vediamo un attimo, vediamo ieri, possiamo vedere anche ieri sulla sparata come si è comportato, per carità, vediamo un attimo, adesso è un po' più, poi guardiamo anche ovviamente oggi e poi abbiamo finito questo argomento, vi darò la dispensa appena la faccio, magari se riesci Davide e Eugenio di oggi se riuscite, poi la faccio in pdf e ve la leggo. Allora, guardiamo un attimino ieri prima della sparata, vediamo se mi ricordo dove c'erano degli stop loss, ma non c'era da girarsi, ecco, forse qui, vediamo un attimo, vabbè facciamola tutta, così facciamo prima. Allora, 9.45 la lunga linea verticale, ok? Dalle 10 inizio a tradare, 10 di questo broker uguale alle 9 italiane. Allora, detto questo, io qui in close ho discesa e discesa, allora io qui sotto entro short, non in close, è a breakout, qui così. Se da qui, fino a qui mi avesse pagato 20, li avrei presi, no? Poi qualcuno potrebbe anche dire, ma io provo a prenderne sempre 10, cioè, ripeto, siccome i test, farne un expert così, per adesso non è così facile d'immediato, e quindi faccio testa a mano, non faccio proprio tutte le ottimizzazioni, ok? Cerco di fare quelle che secondo me possono andare meglio. Ho detto questo, qui sotto vado short, in close di questa vado a vedere che c'è già questa roba qui, quindi qua, io, qua sopra di un pip, cosa faccio? Stoppo lo short e mi giro long, vedete? Facciamo dei loss di quella entità, sostanzialmente, e siamo long da qui. Nel momento in cui io sia long da qui, e non vada a target ovviamente, in close di questa, io ho già di nuovo la decrescita, quindi sotto di due pips a questo minimo, ok? Vediamo, da qui dovrebbe, ecco, qui l'ha preso, l'ha preso lì, quindi più o meno sfiorava queste due e passava qui, era per dirvi che in questa close, se non mi giro prima, io, facciamo finta che non mi possa girare prima, sono entrato long qui, qui chiude così, con il pattern così, allora io metto lo stoppo di sotto e se in queste candele non mi sono dovuto girare, io mi stoppavo qui, ma qui non mi andavo a girare short, mi stoppavo e basta, ok? In realtà credo che nel momento in cui chiudeva questa, vedete qui ho due candele in salita, a volte entrerò short su due candele in discesa, a volte anche su due candele in salita, mi sembra ad esempio, ce n'era uno proprio bello, non mi ricordo più dove, era tutta una salita e lui la faceva, ecco questa qua ad esempio, no, sì questa, beh, non è proprio una candela brutta da shortare, però vedete qui ho due candele sostanzialmente e rialziste, però vedete qui sotto? Io entro short qui sotto, invece con il pattern 1 entravo short sotto di questo, ok? Quindi con il pattern 2 andavo già target, con il pattern 1 cosa facevo? Scusate, ma cerco di allenarvi mentalmente, andiamo da una parte all'altra, allora con il pattern 1 entravo short qui sotto, stop loss di 100 pips oppure target di 30, qui 30 non li pagava e io allora short rimanevo short, 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 x, non ci sono i venditori, sopra di questa nel 15 minuti successivo mi stop e mi giro, vedete non accade, allora io avevo per 15 minuti lo stop loss qui, è reverso ovviamente in questo caso, non entrava niente e quindi lo toglievo, poi ritornavano i venditori, venditori, di nuovo x, non ci sono i venditori, allora sopra di questa io chiudo lo short e mi giro long, ok? Questo è il pattern 1, invece il pattern 2 entrava direttamente, qua ci sono queste due candele, c'è la decrescita e entrava short qui sotto di un pip, ok? Quando chiudeva questa non mi diceva preoccupati e metti lo stop loss perché vedete che c'è ancora decrescita, in close di questa invece vedete che c'era il rischio, ok? Allora lo stop va messo qui, quindi se qui non fosse uscito target, mi sarei stoppato qui, ok? In profitto, perché lo stop mi veniva dato dal metodo, non in close di questa, come quasi sempre accade e quindi l'avrei messo lì, ma in close di questa e quindi l'avrei messo lì, quindi se in questa zona non fosse andato target ma c'è andato, allora qui sarei uscito in stop profit ma non mi sarei girato long, ok? Mi sarei solo chiuso dagli short, quindi in questo caso questo pezzo di giornata va fino a qui, va a target, sono flat e poi vado avanti, vediamo un attimo, qui c'è una crescita tra queste due, quindi io qui sopra vado long. Quando chiude questa qui, vedete che ho già il rischio, allora cosa faccio? Metto lo stop loss di due pips sotto questo minimo, vi ho già fatto vedere ieri e vi riconfermo perché l'ho visto, insomma ho fatto 250 operazioni, l'ho visto tantissimo, guardate che è una cosa pazzesca, se deve salire non va a prenderti lo stop lì sotto, quindi si entra qui, si aveva uno stop loss di sotto di due pips ma non è andato prenderlo, ok? Quindi rimaneva long insomma, poi quindi qui sono long, in close sono ancora long, la candela dopo sono ancora long, questa qua di nuovo, questa qua rotta mi darebbe non solo lo stop ma anche il mi giro short, però non è accaduto e quindi poi andava a target, ok? Bene, ritorniamo alla giornata che stavamo facendo, che non mi ricordo più quale era, era questa qua, penso che più o meno dovrei avervi detto tutto, quindi qui sotto entravo short, qui sopra mi giravo long, sotto di questa mi giravo short perché vedete questa e questa, vedete che sono così, quindi qui sono short, nel momento in cui io sia short da lì, chiude, mostra ancora la decrescita e quindi non ho lo stop, quella dopo, questo martello ribassista, chiude qua così, con gli histogrammi così, allora io lo short qui dove lo stop? Qui sopra, vedete, stringe subito lo stop, nel momento in cui però questa qua chiuda, vedete che c'è anche il pattern per andare long, allora se non fosse stato un pattern long avrei stoppato e basta qui, invece essendo un pattern long, qua mi stoppo lo short e mi giro long e poi da qui non so, magari vado a target, bisogna vedere i 30 pips circa, ok? Poi niente, facciamo finta che comunque con i 20 e con i 30, ma facciamo che lo misuriamo, ecco, quando sono 27 e mezzo segno più 20 sul foglio del test dei più 20, invece l'altra la segnavo così, qui sopra sono long, non rompendo mai nessun minimo, ovviamente sono long e inizio a ragionare da qui, questa qua, questo due doppie candele fa questo, quindi qui sotto io se rompe questo minimo di un pip, quindi per fare il reverse rottura di un pip, per fare uno stop loss rottura di due pips, perché un pip, perché ho anche un segnale contrario, se invece non ho un segnale contrario ma un segnale di dubbio e quindi devo intervenire con lo stop, mettete due pips, sopra o sotto, ok? Quindi io qui adesso devo misurare, non so se si è girato lì, ha fatto un minimo a 214, vediamo se ha fatto 204, no ha fatto 207, quindi sarei ancora dentro con il sistema con target 30, ok? Quindi sarei ancora dentro, da qui. Allora vado avanti, tra queste due candele non c'è un pattern short, anzi, quindi rimango, tra queste due c'è un pattern short, quindi qui sotto io chiudo il long che aveva ambizione di prenderne 30, perché quello che aveva ambizione di prenderne 20 gli ha presi, quindi la faccio più 20, ed è la differenza che vi dicevo prima, qui faccio più 5, più 6, non lo so, lo misurate voi e sono short da qui sotto, una volta che io sia entrato short lì sotto, appena chiude questa candela, vedete che ho già troppi dubbi, cosa faccio? Stop loss 2 pips più spread sopra questo massimo, o vedete viene sfiorato e poi va giù, ma siccome accade un sacco di volte sono contento di averlo notato insomma e ve lo sto registrando dicendo, ok? Quindi questo è importante. Poi vado avanti, credo che abbiamo detto tutto, nel senso che ovviamente da qui fino a qui di grafico, vediamo quanti ne dà, ne dà 20 e mezzo, quindi più 20 l'ho segnato, ok? E quali poi vengono tolti i costi eccetera ovviamente, invece quello da più 30 rimarrebbe dentro, no? E quindi sarebbe short da qui, no? Qui non chiuderebbe e avrebbe lo stop loss sopra qua, quindi al massimo rischiava comunque questo, ad un certo punto in close di questa io ho verde e verde, allora se qui ha rotto di un pip e lo ha fatto, io chiudo lo short che non aveva preso il target e mi giro long, quindi da qui io sono long, nel momento in cui io sia long da qui devo aspettare 15 minuti circa al massimo e aspetto la close, nel momento in cui la close mi indichi questa decrescita, allora io ho già lo stop loss 2 pips sotto questo minimo, però siccome anche questa candela è un pattern short, allora se fosse stata per esempio con i verdi alti in parallelo, non avrei avuto un pattern short, ma avrei avuto uno stop loss sotto questo minimo di 2 pips, invece avendo qui proprio il pattern short, allora io mi stoppo prima, cioè un pip lì sotto e in più mi giro anche short, ok? Quindi lì mi giro anche short e perdo da qui sopra a qui sotto, da qui sono short, appena chiude vedete che c'è ancora decrescita, quindi non ho ancora uno stop loss, quando chiude questa vedete che c'è ancora decrescita e quindi non ho ancora uno stop loss, quando chiude questa, a meno che qui ne abbia ridati per dire 20 eccetera, quello l'abbiamo capito, quando chiude questa vedete che ho un pattern che non è più di decrescita perché i rossi sono diminuiti, i verdi sono rimasti alla pari, non sono cresciuti però sono rimasti alla pari, quindi non ho più questa configurazione, ok? Quindi cosa faccio? Il mio stop loss dello short preso qui sotto diventa 2 pips sopra questo massimo, però io qui sopra non mi vado a girare long perché qui avrei dovuto avere il verde più alto in crescita, allora mi sarei girato long, in questo caso diventa solo uno stop profit e qui sono flat, una volta che poi mi sia flattato lì, in chiusura di questa io ho il pattern per entrare long, ma non c'è il breakout subito nella candela dopo di un pip e quindi sono ancora flat, qui avrei un pattern short, ma non c'è il breakout di un pip e quindi sono ancora flat, chiude questa ho di nuovo il pattern long e quindi entro long qui sopra perché nella candela subito dopo c'è stato il breakout, appena chiude questa, ed è qui la magia secondo me, chiude qua perché sembra essere proprio che siano candele fatte ad hoc, ok? Fatte ad hoc, mi pare di notare questo, perché ti fanno entrare long qui, poi ti fanno questa candela che ti fa venire i dubbi eccetera eccetera, infatti anche l'indicatore te lo segnala, ok? E quindi io so che metterò lo stop loss 2 pip sotto questo minimo, oh, non c'è andato, non c'è andato, lo sfiora eh, ma non c'è andato, se volete dargli una tolleranza di 3 o 4 forse è meglio, perché magari qui questo broker non ha rotto, il nostro non ha rotto, quello di qualcun altro ha rotto di 2 pip, ok? Comunque io al di trado quasi tutti a voce, quindi vi dico se mi ha preso o non mi ha preso, così ci confrontiamo, comunque siamo long da qui con lo stop loss lì, basta, poi siccome qua c'è un breakout di questa qua, ma tra queste due vedete che c'è al limite una crescita, quindi non è un punto dove entrare short, quanti entreranno short sotto questa candela giapponese? Dopo questa? Tanti, e dove lo mettono lo stop? Dove lo vanno a prendere? Lassù no? Indipendentemente dal dato che è uscito ieri, dal FOMC insomma. quindi noi siamo long da qui, stop loss 2 pip lì sotto, teniamo long, teniamo long e poi qui ho crescita e poi non lo devo più e lascio il primo stop che mi dà, dove me lo dà me lo dà, tipo qui me lo dava qui, no? E quindi da qui me lo dava qui e quindi era uno stop profit, altre volte uno stop loss e poi niente, quando arrivo a target dei più 30 prendo, ok? Boh, io credo, esatto, ho visto che mi scrivate domande, però ho visto anche che mi scrivete ho che mi ha risposto adesso, io credo di non essermi dimenticato nulla, andiamo a vedere ad esempio, ripeto, il pattern l'ho testato fino alle ore 16, il pattern numero 2, possiamo vedere cosa ha fatto ieri in alta volatilità, giusto per vedere un attimino come si comporti anche sui non farm, già superati brillantemente, la BCE l'ha superata brillantemente, vediamo anche il FOMC come l'ha tradato, lo avrebbe tradato questo indicatore, partiamo da un quarto d'ora prima, anzi partiamo da questa close, partiamo da questa close perché è uscito il FOMC, ok? È uscito il FOMC, allora questa qua rispetto a quella prima è in parallelo, quindi è flat, questa qua è in decrescita, allora io metto uno short per la candela successiva un pipo lì sotto, non mi prende, sotto di questa, questa qua, ho due candele così, ma vedete che ho ancora la decrescita e quindi io metto uno short qui sotto e quindi è entrato short lì sotto, adesso non so la volatilità, chiaro che da qui sotto fino a qui sono anche quasi 30 pips, per dire i più 20 sarebbero usciti lì, ok? Io non l'ho segnata questa operazione perché ho deciso, ripeto, fino alle 16 italiane, ok? Però chi entrava short qui sotto e voleva i più 20 qui li prendeva, chi invece voleva i più 30 non li prendeva, in questa close però vedeva che c'era un pattern addirittura contrario, quindi metteva lo stop e reverse qui sopra, quindi chi è entrato short qui sotto non ha chiuso target, si stoppava e girava long di sopra, quindi perdeva, chiaramente di la volatilità un po' più alta, perdeva circa di grafico 25 pips e poi ne prendeva dopo, 30 o di più perché ha accelerato di più magari non sono più 30, spesso tra l'altro ho segnato più 20, più 30 con anche un più 40, 50, 60 di grafico, ho sempre fermato praticamente lì, ok? Tendenzialmente. E quindi entrava long e qui si flattava, una volta flattato lì aspettava, siccome non arrivano qui dei break house ribassisti è inutile andare a cercare degli short, cerchiamo dei long, quindi tra queste due non c'è crescita, tra queste due non c'è crescita, tra queste due che vi vado a cerchiare c'è la crescita e quindi di nuovo qui sopra un pip entro long e qui ha pagato più 20 o più 30. Vado avanti, tra questa e questa c'è ancora crescita, tra questa e questa c'è decrescita. Allora io qui sotto entrarei short, ma non mi sembra che abbia rotto di un pip, ok? Almeno questo broker che è il nostro di riferimento. Quindi sono flat, qui questa non rompe niente, questa qua rompe il minimo di quella prima, ma le due precedenti erano in setup long, quindi niente. Poi qui ho un breakout, entro short perché tra queste due vedete che c'è il pattern short, quindi entro short qui, anche qui magari la volatilità alta 20-30 gli ha dati, se non gli avesse dati avrei comunque dove messo lo stop loss, una volta entrato short qui sotto, chiude qui, io ho già la crescita e quindi lo stop è lì, quindi entro short qui sotto e mi stoppo lì sopra, a meno che di andare a target, ok? Detto questo credo che siamo a posto, vediamo quello che sta facendo oggi, che ripeto per quante siano le operazioni di oggi vanno a sommarsi alle 250, quindi ricordiamoci della statistica, ok? Comunque 9-45 e il massimo zoom è questo, allora 9-45 io, allora la sposto solo perché le 9-45 è l'orario, ma devo vederla quella candela, quindi lo mettiamo alle 9-30 ma partiamo da questa, quindi tra questa e questa c'è crescita e quindi niente, cioè niente, se questa avesse aperto e rotto lassù sarebbe entrato long, tra questa e questa c'è la decrescita, quindi oggi dava un segnale short qui sotto, da lì sotto a qui ha dato anche 50, quindi nell'equity devo andare ad aggiornare più 20-30 agli adatti, quindi avrebbe fatto più 20-30 e in questa zona si sarebbe flattato, una volta che è diventato flat lì andiamo avanti, tra queste due c'è una crescita, quindi io un pip qui sopra entro long e di sicuro c'è andato, quando chiude questa vedete che ho già il dubbio, ok? Quindi addirittura avrei messo uno stop e reverse di un pip sotto di questa, non ci va, in quella dopo non mi devo preoccupare, però attenzione, se mi entra il reverse, vedete poi vengono fuori i dettagli, se mi entra il reverse entro un pip sotto, se invece non mi è entrato nella candela questa qua, allora dovrei, proprio per essere precisini, abbassarlo ancora di un pip, perché lo stop loss è sotto di due pip, ok? Il reverse è sotto di un pip, comunque in ogni caso saremmo a long da qui, con adesso in questa close, uno stop loss di due pip sotto quella candela. Valido per tutta la giornata, per assurdo, o fino a quando non si esca target o non arrivi un segnale contrario, ok? Allora misuro un attimo perché la volatilità qui è alta, da qui a qui ha pagato 40, quindi nel caso so che gli ha dati il target. In questa qua non succede nulla, vedete? Qua non succede nulla, non succede nulla e quindi va a target, quindi ho già fatto, più 20 più 30 dipende qui sotto e da qui più 20 più 30, quindi oggi nell'equity entrano altri 60 o 40 pip, ok? Andiamo avanti, qui siamo flat, ad un certo punto, tra queste due cosa succede? Che c'è ancora crescita, quindi al massimo sarei entrato long di sopra, tra queste due c'è decrescita e quindi se qui ha rotto di un pip noi siamo short e la vediamo in diretta, vediamo un attimo se ha rotto di un pip. Chiaro che oggi un pip con la possibilità di fare 200-300 pip di range, come diceva anche Dario sulla tecnica di Londra, ma sulla tecnica di Londra abbiamo già 3 pip di buffer, quindi 3 pip li ho lasciati gli stessi, magari qui un pip oggi potrebbe essere un po' aumentato, ma lasciamo anche un pip, ok? Questa candela ha fatto un minimo a 61,7, quindi si ha battuto 607, si ha battuto 594, allora il sistema è short da qui, ok? Tra 3 minuti, se chiude così ha un reverse qui sopra, se invece chiudesse così, con questo in parallelo ad esempio avrebbe uno stop loss 2 pip di sopra e andrebbe ad accusare uno stop loss di circa, oggi ovviamente la volatilità è più alta, ecco in questo momento di 26 pip per dire, circa 30, aspettiamo, per ora il massimo stop è stato di 40 pip, vi faccio vedere dove, così ho detto tutto, ho registrato tutto, poi appena avrò la dispensa e ringrazio Eugenio Davide e ve la passo anche, così l'avrete anche, Eugenio Davide se avete voglia e siete molto gentili, è bello che faccio le domande e mi do le risposte, qualcuno dirà, però se mi fate una cortesia enorme, se avete voglia di allegare qualche immagine, ok? Così aiutiamo tutti, perché per noi è cosa naturale, però magari qualcuno ha iniziato a tradare da due settimane e di questo webinar ci ha capito ben poco, perché vado troppo magari veloce a parlare, salto da una parte all'altra, però chiedo a chi magari sia stato in difficoltà di comunque poi riguardare il video, segnalarsi tutto, eccetera, eccetera, ne veniamo a capo con tutti. Niente, questa giornata qui che tra l'altro ho lavorato bene, perché comunque ho lavorato bene, vi faccio vedere ad esempio, noi partiamo, qui siamo in parallelo, però ovviamente su quella prima eravamo, tra queste due eravamo in crescita, quindi entrava long qui il sistema, poi tra queste due c'è decrescita, quindi si stop, reversava in piccolo profitto e si metteva short qui, una volta short lì, quando chiudeva questa qua, chiudeva già più con mancata decrescita, quindi lo stop era automaticamente lì, da qui era short, sopra di questa sarebbe andata long, ma non c'è andato e poi va long qui, quindi chiude lo short in piccolo gain e qua si gira long. Una volta che da qui si è girato long probabilmente ha dato i più 30 o i più 20, ecco qua ho segnato più 20 e però il più 30 no, il più 30 diventa un reverse sotto di questa, quindi il più 20 lo fa, il più 30 fa questo qua e poi da qui c'è solo il breakout qua, però queste due erano in discesa, quindi praticamente da qui ha preso il più 20 più 30, poi ad un certo punto cosa succede? Che qua, ecco no, in realtà qua no, ecco questo qua è ancora un punto che devo dire, questo perché l'ho messo anche su un altro broker, questo broker qua in realtà con questa dinamica se non sbaglio non li ha presi in realtà, no, non li ha presi meno 40, invece il pattern 1 li prende, perché il pattern 1 guardate, su questa candela non ha venditori, quindi entra long qui sopra, target 30, stop 100 oppure un reverse, in close di questa vedete che non ho più i compratori e quindi qui sotto si stoppa e qui perde 40, effettivamente invece con questa dinamica non li va a perdere, perché qui sopra non entra più long, perché non ho avuto tra queste due una crescita, quindi si è preso lo short e poi ovviamente su una rigenerazione del mercato, che ne so tipo questo martello che avrà, qui un po' anche di bravura nell'usarlo, tipo un martello così dopo tutta questa discesa fa entrare i piccoli in long, spesse volte sono un po' più bust, puntini puntini, perché ti fanno anche il breakout di questo massimo, perché molti anticipano qui, doppio minimo è sceso tanto, magari passa un pivot, però molti aspettano il breakout e allora molte volte guardate, fate caso queste parole, fateci caso con i vostri occhi sui grafici, vedrete proprio il breakout di 2 o 3 pips per indurre in tentazione, anzi praticamente fa entrare molti altri piccoli e poi vanno giù, quindi questa rigenera un po' il mercato con i compratori, nel momento in cui però tra questa e questa ci sia questo, allora io qui sotto entro short, quando entro short qui, in close questa qua sale e quindi ho già lo stop loss lì e vi siete osservati e avete capito il motivo dello stop loss medio di 8 pips per mezzo, ok? ok? Buongiorno ragazzi, perché appunto adesso devo fare anche poi il discorso laggiù, ecco qui ad esempio, capitato questo histogramma, non mi dice di andare long, allora oggi avrebbe fatto il più 20, più 20, più 20, l'altro più 30, più 30 e poi avrebbe fatto uno short da qui sotto, quando chiude questa vedete che, no? E la prima volta forse che lo vediamo fa una cosa un po' strana, non importa, 2 pips sopra, mi vado a stoppare e quindi vado a perdere da qui sotto a qui sopra 26, più 3, 29, meno 30, quindi avrebbe fatto più 20, più 20, meno 30, poi ovviamente aggiungo i costi nell'equity e meno 30, ok? Quindi questo è il risultato sinora, ok? Poi di oggi probabilmente ne potrà dare anche altre indicazioni, va bene, quindi questo è il quanto ragazzi e ragazze, credo di essere, e spero di essere stato chiaro, nel senso che l'abbiamo anche comunque poi registrato, ve lo riguardate. Allora, quindi io direi di interrompere Eug, comunque forse è andato via Eugenio un attimino, 11.31 mi scriveva, Eug, ci sei già? Comunque vabbè, interrompi, vabbè, gli scrivo. Ah, ok, perfetto, ci sei.